Ciao Marco, siamo nella filiale Runstad dove ci siamo conosciuti, volevamo un po' sapere quella che è stata la tua storia. Allora io mi sono diplomato in un istituto professionale a fatica e dopo di che ho cominciato a lavorare, avevo cominciato a lavorare mentre cercavo di diplomarmi nei periodi estivi e poi ho continuato con due esperienze dirette, una per tre anni e una per quattro. Dopodiché ho conosciuto un amico che mi ha parlato bene di Runstad, ho provato a informarmi su Runstad sulle possibilità che offriva e dove ho conosciuto Modula e ho mollato il lavoro a tempo indeterminato per andare in Runstad senza garanzia, rimettendomi in gioco, dove fortunatamente è andata come è andata e quindi è andata molto bene. Ho cominciato come operatore dentro Modula, dopo di che col tempo grazie a Modula e grazie a Runstad che mi ha dato la possibilità tramite corso di formazione, crescita, mi ha dato fiducia i responsabili di produzione, mi ha dato fiducia dove mi hanno fatto crescere e adesso al momento sono responsabile di un team di 35 persone con 11 macchine automatiche e mi trovo molto bene, l'azienda è molto giovane, molto innovativa, veramente una bella azienda e soprattutto in poco tempo, grazie a Runstad mi hanno assunto, mi hanno fatto un contratto a tempo determinato, quindi veramente sono molto grato a Runstad e Modula per le opportunità che mi sono state date. Cosa ti senti di consigliare a un giovane che si approccia al mondo del lavoro? Io gli consiglierei di non accontentarsi, di mettersi in gioco quando è possibile, di cercare sempre di fare il lavoro che più ti piace o che più si preferisce perché alla fine c'è sempre possibilità di miglioramento se ci si impegna. Grazie Marco, in bocca al lupo per la tua carriera. Grazie.